Non sulla parallela ma sulla diagonale scelta, chiudendo con il colpo lo schiacciatore Busek polacco ora Lungo linea, Trisca di Sibui, da cercare Busek Paura! Ancora di Simone Parodi, e ancora un muro per lui 24 a 19, tutto targato Simone Parodi E' il terzo muro personale, il secondo consecutivo E adesso 5 match point per l'Italia per vincere il quinto match di questa World League Busek viene mandato ovviamente in doccia con disonore Con questo cambio, non inficia nulla, non può dare nulla Matteo Piano Eccolo qua Matteo Piano 5, anzi 4 adesso il match point perché uno viene annullato Con questo errore al servizio del nuovo centrale di Modena Matteo Piano Scambio di cortesie tra centrali che sbagliano il servizio dall'uno e dall'altra parte Ora il pallone torna proprio nelle mani di Kloss Eh sì, Karol Kloss Belgato A servire questo pallone Bravo Giro Travisa Zayzer attacca questo pallone Il punto per l'Italia Il mani fuori Ancora targato Zayzer 25 a 20 3 a 1 Ancora un 3 a 1 3 set perci per la nostra nazionale E ancora una vittoria La quinta di una partenza straordinaria Un po' di fatica nel secondo set Un pochino anche nel terzo Qualche problema in ricezione Qualche problema al servizio Ma questa è la nostra Italia Questa è una grande nazionale che sta facendo veramente stra bene l'Aki Sì, il risultato finale è quello che conta Maurizio La voglia di Italia E soprattutto la crescita di questa squadra Con primo set preciso E poi soprattutto La voglia in quest'ultimo set Di essere su ogni pallone Un'Italia che ha dato Una grande prova di coesione Con l'ingresso